Lo specchio Kundin Optik, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera. Buonasera, era il 1983 quando Ronald Reagan prometteva scudi spaziali, Bjorn Borg si ritirava dal tennis e al Polo Sud registravano la temperatura più bassa di sempre, meno 89,2 gradi. Ed era il 1983 quando le radio di tutto il mondo trasmettevano fino alla luna Vamos alla Playa, un brano nato in una cantina di Torino e altri tormentoni arriveranno. Beh, 41 anni dopo è davvero un piacere, lo confesso per me è un'emozione avere come ospite il suo autore, un autore che con la sua prorompente umanità ha attraversato e ha scritto pagine di vita privata e collettiva. E allora diamo il benvenuto a Johnson Rigueira, buonasera Johnson, ciao a tutti. Johnson, devo chiamarti Johnson, Rigueira oppure Stefano Righi oppure Aspro e Marinetti. Ce n'è anche un altro, che è Siluro Bombacci. Siluro è un pescione che tra l'altro sta nel po', tirano fuori certe sberle. Sì, ma è anche, sa molto di futurismo. E beh, allora il richiamo al futurismo è... Bombacci invece, sai, io ho sempre amato i personaggi controversi. Nicola Bombacci fu fondatore del Partito Comunista nel 21 a Livorno e successivamente diventò amico del Duce e venne fucilato a Dongo. Cioè venne espulso prima dal Partito Comunista. Cioè è un personaggio... Johnson, allora Bombacci da una parte che è un evidente tributo al Partito Comunista, al quale tu sei sempre dichiarato vicino. No, ma non è vero. Però Marinetti invece è stato assorbito, alcuni dicono, in una cultura più di destra. Com'è? Sei un ecumenico? No, a parte che io non sono vicino... Cioè non sono stato candidato per amicizia con Marco Rizzo, del quale peraltro ultimamente non condivido molto. Ma in realtà io sono un uomo di sinistra, ma sono più vicino forse ai radicali, sono un libertario, non sono un ideologico. Però infatti nel 2021 tu ti presenti... Ma mi chiesero... Sì, in Consiglio Comunale a Torino... Mi chiesero, un favore, ma io volevo andare lì a fare l'indipendente comunque nella lista del partito. Cioè io non mi sento di aderire a delle ideologie che secondo me sono state un po' superate già dalla storia ampiamente, oltre che difficili da realizzare e delle utopie più che delle ideologie. Però quello che mi viene da chiederti, tu avevi comunque un credito di pubblico che si sarebbe potuto sfruttare poi in credito di voti. Invece il tuo popolo non ti ha votato e allora è successo un po' anche a Claudio Cecchetto che abbiamo avuto ospite dove sei seduto tu. Anche lui aveva tentato la politica, ma sei un po' arrabbiato di questa cosa? In realtà io non ho fatto campagna elettorale perché io rischiavo di saltare un'importante trasmissione televisiva proprio per questa mia candidatura. Per cui ho fatto un passo indietro e sono sparito. Nonostante quello, comunque i voti ne avevo presi, ma intanto non passò comunque, non superò la barriera il partito. Io non pensavo che comunque con Johnson Reguera partissimo su un piano politico, però... Ma neanche io, sinceramente. No, ma infatti, però sai questo programma, andiamo dove ci porta un po' il flow, per usare un termine inglese. La politica comunque anche negli anni Ottanta c'era e come. Voglio dire, c'era un'Italia che ballava, che aveva voglia di far festa, però c'era un'Italia che raccoglieva bossoli e alcuni addirittura parlavano di guerra civile, c'erano dei colpi in strada, insomma. Io non so quando partono gli anni Ottanta. Roberto D'Agostino dice nel 78 con il sequestro Moro. Altri dicono Bologna, stazione di Bologna 1980. Fabio De Luca, che è l'autore del libro che parla... Oh, oh, oh. Oh, 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 sarebbe... Sarebbe... Irigheira, La Playa, l'estate 1983. Lui sostiene, insomma, forse non soltanto lui, comunque che invece gli anni Ottanta cominciano dall'Ottantadue, dalla vittoria dei mondiali dell'Italia. E in un certo senso, anche l'Ottantatré con Vamo sarà a Praia, che è stato un pezzo, un miracolo, non lo so cosa sia successo quella volta, perché siamo ancora qua dopo 40 anni a parlare, dopo quasi 40... Mi farai conto che abbiamo cambiato l'anno da poco. 41 anni. Sì, in un certo senso nacque a dicembre 1981, in quella famosa cantina di cui parlavi prima. è una versione molto più cupa e dark che non poi quella che venne fuori dalla produzione dei fratelli La Bionda. Tra l'altro mi piace ricordare anche Carmelo, che ci ha lasciati non molto tempo fa ed è stata una grave perdita. Ma La Bionda, quando sentiremo il provino di Vamos, questa mia versione fatta appunto nella cantina di Via Accademia Albertina a Torino, e intuirono le potenzialità e dicevano però è triste, bisogna farla diventare allegra. E nonostante parlasse poi di esplosioni nucleari, di bombe, perché in realtà era una canzone da spiaggia, ma da spiaggia del post-atomica. Esattamente, sì, sì. Perché io iniziai con le mie prime cose, con la mia avventura nella musica, iniziai ispirandomi al... era appena... c'era un periodo un po' del punk, così, e io sentivo questa energia che arrivava dal punk, questo reset che il punk stava facendo sulla musica degli anni 70, riportava tutto alle radici, al rock and roll delle origini. Io pensai che in Italia non c'era... cioè, rock and roll non è mai stato una cosa di massa, ma però influenzò pesantemente i musicisti di fine anni 50, inizio anni 60. E io, infatti, mi ispirai proprio a quel periodo in cui la musica leggera italiana cambiò, rotta, passò da Danila Pizzi a Peppino Di Capri e a Edoardo Vianello. Per cui le mie prime cose erano molto ispirate alle canzoni balneari di quel periodo. Vamos alla Playa, che era poi l'evoluzione... La New Wave, la mia personale New Wave, era lo step successivo, e quindi era una canzone da spiaggia, ma da spiaggia post-atomica. Perché infatti, tutti ricordano Vamos alla Playa, però ci sono dei versi che dicono, scoppia la bomba, c'è un vento atomico, un vento radioattivo, che ci spetti nei capelli, le radiazioni bruciano. Cioè, alla fine, forse è stata storicizzata in un modo un po' superficiale, perché comunque emetteva due mondi, da una parte la vocazione spiaggiaiola, ma dall'altra parte, insomma, l'ho citato Reagan in entrata, erano gli anni della deterrenza dell'atomo. In realtà io all'epoca non mi resi conto, probabilmente sì, è chiaro che fui influenzato nella scrittura di quel pezzo dal clima internazionale, anche se in qualche modo l'ho, come dire, non l'ho fatto in modo istintivo, inconsapevole. in realtà però era una canzone positiva, perché comunque diceva, sì, vabbè, scoppierà la bomba, vuol dire che andremo in spiaggia, diventeremo blu invece che marroni. Infatti, il blu, vedi, i colori acidi, no? Perché poi ci si è trovati di fronte, improvvisamente, a questo miracolo, come l'hai definito, perché Zanichelli, il dizionario, fa risalire proprio al 1983 il termine tormentone. Perché i tormentoni c'erano già prima, proprio quelli che avevo appena citato, ma non era forse stato che era creato il termine. Il termine tormentone arriva, grazie... O per colpa di Vamos alla Playa. Assolutamente. Vamos alla Playa, appunto, 1983, i Righiera, composti da Stefano Righi e Stefano Rota. Non siete fratelli, lo diciamo subito. Bravo. Avete frequentato entrambi... Vedi, sei già riuscito a non fare... Andrà, andrà. È quella più classica, no? Quelli dicono, i fratelli Righiera. Non sono fratelli, lo diciamo, però avete frequentato, in modo fraterno, il liceo Albert Einstein di Torino. Ora, adesso ci sta girando un film, Openheimer, dove si vede Einstein che con la sua sapienza è riuscito a creare le premesse per lo sviluppo poi della bomba atomica. Insomma, alla fine... Adesso io magari sto esagerando, però c'è una connessione fra la grande storia dell'atomo e la canzonetta di Righiera. Cioè, ci siete caduti dentro forse anche il fatto che ha avuto un grande successo. sarebbe interessante questa tua... Il liceo Albert Einstein, com'eri tu in quei banchi? Ma io passavo il tempo... Diciamo che... Cominciamo col dire che io conobbi Michael, che è un anno più giovane di me, lo conobbi alla mia prima bocciatura. Quindi... Successivamente venimo anche bocciati insieme, poi lui si ritirò e alla fine lui si ritirò per un paio di volte consecutive dalla quarta. Allora decise di... Non poteva più riscriversi in quella scuola, per cui decise di passare alle magistrali. Le magistrali all'epoca, adesso non so adesso, ma erano quattro anni. L'idea era faccio l'esame di ammissione delle magistrali, mi ammettono in quarta e finiamo insieme il liceo. se non che lo misero in terza. Cioè venne retrocesso, una cosa che non credo abbia precedenti. E quindi poi va bene, lui fece poi quello, ma in realtà fumò. Cioè non eravamo ecco degli studenti modello. Ma io in classe pensavo a tutti i miei progetti, devo dire, meno male, perché alla fin fine non è stato tempo buttato. No, direi proprio di no. Siamo qua ancora a parlarne, quindi è andata bene, è andata di lusso. Torino, che città è stata per te? Una città che viene spesso definita in termini di magia, di esoterismo, però anche la città della fatica operaia, davvero ben poco magica. Tu in quale casa sei cresciuto? Cosa facevano i tuoi genitori? Mio padre era un uomo, mio padre era sì, posso definirlo tranquillamente comunista, per cui in una casa avevamo il Che Guevara attaccato in tinello, però mio padre era anche un appassionato di arte, un appassionato di musica, di jazz, di bossano, di musica non banale. Quindi ho avuto tutti questi imprinting che sicuramente mi hanno influenzato nella mia personale poi elaborazione degli aspetti artistici della vita, se vogliamo. diciamo che era una casa dove si facevano discorsi seri, importanti, c'era una certa sensibilità riguardo i problemi reali, non era una casa superficiale. Quindi io sono cresciuto in questo ambiente qua, era una famiglia assolutamente non ricca, in piccola borghesia, ma spesso faticava un pochino ad avere, non eravamo benestanti. e Torino era una città all'epoca abbastanza grigia e plumbe a parte poi gli anni del terrorismo ma già in precedenza perché era comunque una città scandita dagli ritmi della Fiat in cui non c'era nessun interesse a far succedere le cose perché doveva funzionare l'azienda città praticamente che era la Fiat e questo è probabile che abbia creato in me una sorta di cortocircuito che mi ha portato ad essere ad avere voglia di colore di esotismo di di stravaganza sì sì anche per quello che poi i righeira che sono partiti da un look abbastanza new wave perché era quello l'aria che respiravamo però ci abbiamo aggiunto delle botte di colore cioè non era una new wave cupa come quella magari anglosassone tutti neri scuri noi ci mettevamo dentro colori pazzeschi insieme cioè era la nostra via diciamo alla moda la moda stava nascendo la moda italiana stava esplodendo anche in quel periodo cioè sono stati anni abbiamo avuto la fortuna di vivere in un periodo in cui stavano succedendo un sacco di cose che ne dicono quelli che hanno sempre sottuto che gli anni 80 sono stati anni di riflusso superficialità non è assolutamente vero saranno anche stati quelli e tua mamma come mia mamma era casalinga però faceva la camiciaia le camicie che mettevo all'inizio me le faceva mia mamma ma ero orgogliosa di quello che stavi facendo ma sai in modo molto piemontese mio padre era toscano però cresciuto a Torino quindi da bambino quindi parlava diretto quindi era molto più torinese che toscano per certi versi e quindi il piemontese non dimostra mai ha sempre una certa pacatezza nel manifestare anche entusiasmi non lo dà a vedere insomma quindi so che erano sicuramente orgogliosi ma allo stesso tempo non è neanche che si sperticavano in elogi o avevano questo understatement sabaudo diciamo però hai avuto comunque coraggio a importare so che tu sei cresciuto per esempio ascoltando Kraftwerk e l'elettromusica tedesca ma anche tanta disco music fanchi a iniettare questa luce questo colore questa voglia di vivere in questa città ho capito insomma un po' con trattina plumbea spesso con le nebbie avete voglia di questa vocazione appunto spiaggiaiola questa città attraversata da un po' a volte un po' non più baneabile ma tu da bambino facevi bagno al po' no se il bagno lo si faceva credo negli anni 50 almeno non lo so se si facesse anche nel po' ma sicuramente nel Sangone che era un torrente di periferia dove andavano dove andava la gente che non poteva permettersi di andare al mare ed è un fiume eternato dal grandissimo Gippo Farasino che fece una canzone che io ho avuto poi il privilegio l'onore e l'emozione di cantare con lui un giorno anni fa una canzone che si intesa la Sangon Blues che è uno spaccato di una Torino anni 50 dove i ragazzi vanno lì a fare a cercare di broccolare di broccolare tra l'altro il tuo primo testo Bianca Surf 1980 qui da solo è un album da solista tu canti andiamo in spiaggia a fare l'amore però che freddo ma che freddo che fa fare il bagno alla mezzanotte è una triste storia d'amore veramente accaduta davvero ma tu gli amori infelici nella tua vita o tendenzialmente ma si sono stati sicuramente cose belle cose meno belle poi sai il tempo guarisce sempre però dietro quella canzone che amore c'è quella lì si si stava profilando una storia che poi invece non è accaduta per questo colpo di scena che viene raccontato nella canzone e quindi ma la stessa l'estate si sta finendo che io ho scritto prima di Vamos alla playa perché l'estate si sta finendo è dell'inizio 80 e io ipotizzavo anche lì oltre alla fine dell'estate il tempo che passa la paura di crescere tutto quanto ipotizzavo la fine di un amore che in realtà non avevo ancora avuto per cui ero avevo questo senso malinconico senza avere ancora avuto una storia d'amore e già pensavo che fosse finita male per cui ho capito poi scoppia questo successo planetario planetario perché i tormentoni spesso si sconfinano vengono confinati nel tempo e nello spazio di una regione linguistica e per un'estate invece oggi i ragazzini fanno i conti ancora con questo pezzo scritto nell'inizio degli anni 80 e il successo che cosa ti ha dato e che cosa ti ha tolto ma cosa mi ha tolto non lo so cosa mi ha dato mi ha dato sicuramente una vita molto divertente insomma nel senso che non sono diventato ricco ma insomma non ho avuto neanche grossi problemi insomma da questo punto di vista quindi questo è già molto mi ha dato la possibilità di viaggiare di conoscere un sacco di gente di vivere forse un po' la vita che sogniamo anche se poi quello che accade è sempre diverso da come sogni o come immagini di sicuro ci penso a quegli anni lì e mi sembra quasi una vita precedente li sento distanti anche perché pur chiaramente continuando a cantare quelle canzoni lì sarei un pazzo a non farlo perché è quello che mi dà da vivere ma in realtà soprattutto quando sono andato a vivere recentemente in campagna io sono tornato progettuale che era una cosa che forse negli anni negli ultimi anni ti era mancato avevo un po' perso mi lasciavo un po' vivere facendo di routine facendo le serate così però non avevo una vera invece sono andato in campagna ho passato il lockdown lì nel Canavese una zona bellissima in provincia di Torino nell'alta provincia di Torino è una zona ancora poco conosciuta ma una zona piena di cose estremamente interessanti con un potenziale turistico forse è proprio il carattere di Canavesani da piemontesi all'unesima potenza infatti produci vino e musica e lì ero lì proprio quando è partito il lockdown doveva essere una casa di vacanza e fatto sta che ero a cena agli amici che abitano al piano di sopra dove sto io in questa corte in questa ex cascina ristrutturata quando ci fu l'annuncio del lockdown io dissi loro aspetta che faccio io sto qua e ho passato un lockdown che non lo so per me è stato un periodo estremamente rigenerante perché ero lì in questa pace quasi assoluta e lì ho cominciato non so il mio cervello ha cominciato di nuovo a Johnson è ristanco di girare in certi su certi palcoscenici di periferia di provincia dopo aver vissuto i grandi palcoscenici negli anni 80 un successo quello no perché poi in realtà i palcoscenici sono tutti uguali e e tuttora si sale su palcoscenici molto importanti ma quindi non è quello il discorso era proprio il fatto che non c'era più probabilmente anche lo scioglimento di Rigueira mi ha forse dato è stato comunque una cosa dolorosa perché non è però non c'era neanche più quell'alchimia che ha fatto sì che fossimo diventati Rigueira era una cosa eravamo cambiati e ci eravamo sicuramente allontanati quindi quel periodo questo periodo di lockdown in campagna mi ha permesso di ritrovare è Johnson Rigueira è proprio quell'anima io dico cialtrona che fa sì che poi adesso mi sono messo a fare anche delle cose soprattutto anche cose diverse perché ho iniziato a produrre questo vino durante quel periodo ho aperto la mia etichetta discografica entrambe si chiamano Cottolengo con la K che non è una mancanza di rispetto all'istituto Cottolengo che continua a fare tantissimo bene ma è invece riferito tanto al fatto che io ci abito di fianco cioè ci abitavo di fianco sono comunque tuttora residenti lì a Torino e lo vedo proprio da un'aria di casa mia vedo un'ala del Cottolengo ma è riferito più che altro all'accezione dialettale torinese dove Kutulengo sta per matto per pazzo e c'è il suo diminutivo è Kutu se Kutu è quasi sei matto e allora ho pensato bene di chiamare siccome ritengo che la mia vita alla fine sia stata un Kutulengo mi sembrava che fosse una cosa che sintetizzava bene i miei nuovi progetti ma che saranno in qualche modo il progetto definitivo insomma perché sarà così come il futurismo si occupava un po' di tutte le il Vigo del Cottolengo sarà un marchio che caratterizzerà tutte le mie cose per cui il vino il primo vino che è una produzione veramente limitatissima che è un'erbaluce di caluso è un vitigno un vitigno autottono del canavese è proprio un bianco strano perché il Piemonte è più famoso certamente per i rossi questo invece è un bianco e io l'ho spiegato all'enologo Vittorio Garda come volevo questo vino volevo che avesse delle caratteristiche un po' diverse da quello degli altri produttori e lui ha capito bene l'abbiamo ha detto facciamo in anfora vai facciamo in anfora e allora il vino l'ho chiamato Kutu perché è un po' fuori dagli schemi e quanto ha sofferto Kutu Johnson nel 1993 quando c'è una pagina di storia che ti riguarda abbiamo letto anche sui giornali si è stato arrestato per spazio di stupefacenti poi dobbiamo dire subito che è stato prosciolto da tutte le accuse però cavolo ti sei fatto comunque cinque mesi di prigione lì sì che c'era era un lockdown forzato quello era un vero lockdown forzato che cosa hai visto e che cosa hai imparato in quella pagina di giustizia non giustizia ma sai io ero in costruito cautelare per cui non ho scontato niente in realtà sono scontati sì perché cinque mesi di costruito cautelare sono comunque tantissimi ma sai è stata io ero sicuramente troppo vicino a tutta una serie di situazioni di persone e anche se non avevo assolutamente a che fare con l'argomento poi delle accuse e quella esperienza è sicuramente formativa perché adesso a distanza di tempo sicuramente è una cosa che mi ha arricchito certo ne avrei fatto volentieri meno anche perché quelli sono stati cinque mesi molto brutti in cui mi sembrava che la mia vita fosse finita e poi per uno che soffriva già che aveva già sofferto molto a fare il servizio militare che è un assaggio che è un assaggio infatti il servizio militare tra l'altro quando ti è scoppiato questo successo fra le mani sei andato ero già a Naja abbiamo registrato VAMOS e sono partito per Naja e uscitamente ero a Naja ecco ma tu in quell'ambiente sei arrivato con i galloni dell'uomo di successo eri già famoso quando sei andato no agli occhi anche dei miei commilitoni ero un illuso poi invece VAMOS è uscita ed è successo quello mi accorsi che la mia vita stava cambiando quando quell'estate lì l'estate dell'83 sarà stato il 18 agosto credo noi eravamo primi in classifica io ero cercavo anche lì di non mettere troppi manifesti di quello che stava succedendo poi non sapevo non sapevo neanche io cosa stava realmente succedendo si stava realizzando un sogno ma non sapevo in cosa consistesse tutto questo e allora ovviamente andavo in giro con le licenze dei permessi per riuscire a fare le tv invece di andare a casa e quindi cominciamo ad avere un assaggio della notorietà del fatto del successo e poi si rientrava in caserma e si ritornava perché poi io c'ero già da prima quindi nessuno era così un po' intimorito dal fatto che io fossi uno di successo perché io ero partito lì ero un nessuno quindi mi trattavano come quando sono arrivato anche se nel frattempo ero ma dicevo ad agosto riuscì a farmi mandare stavo scoppiando perché non ce la facevo più perché vedevo andavo a fare gli autogono e poi si rientrava in caserma e insomma cominciava a diventare difficile detto questo riuscì a farmi mandare all'ospedale militare di Milano per una visita per cercando di strappare una convalescenza per crisi depressive ti stai inventato la crisi depressiva o la vivi vero io parlai così ma io in realtà al colloquio dissi che facevo l'università mentiri perché non sapevo non volevo che si sapesse che invece ero quello e capì che però non funzionava così dopo beccai di nuovo lo psicologo civile in giro per i corridoi dopo lunghe insistenze guardi devo dire una cosa perché non l'ho detto prima non l'ho detto la verità posso dire una cosa e mi dica mi dica gli dissi lei conosce Vamoce alla Playa sì ecco io sono uno dei due di Vamoce alla Playa ho bisogno di 20 giorni mi chiamarono in nuovo nell'ufficio del tenente venne anche il capitano e mi fecero un gran pippone sulla serietà dei servizi e mi chiamarono comunque le do 20 giorni ora non faccio il gesto che ho fatto io uscendo lo chiamano il gesto dell'ombreza esattamente esattamente ma io ecco in quel preciso istante ho capito che qualcosa era cambiato vamoce alla Playa ma non solo medley io ti voglio bene bianca dentro romeo senza senza te come sopra mio dio so dai andiamo al mare andiamo per l'amore la silva sta ben chiara con la luna e cielo luna incredibile se pensi che erano passati due anni da Bianca Surfer ti mi ho vabbè luna il che ci per Questo non è un concerto, questo non è un concerto. Eccolo, Johnson Rigueira in curva con la squadra belga. Union Saint-Giloise. Allora, ma che storia è questa? Come mai le curve hanno assunto i tuoi brani e l'Union Saint-Giloise? Beh, le canzoni di Rigueira sono sicuramente canzoni che si prestano a diventare cori. Perché sono quasi slogan da corteo. Io sono giuventino da sempre. La piega che ho preso il calcio recentemente non mi piace più tanto. Anni fa, nel 2012 o 2014, ero a Bruxelles per cantare a una festa di amici. Ero lì sotto qualche giorno e non mi ero fissato che volevo andare a vedere una partita di calcio. L'unica squadra che giocava in casa quel weekend, l'unica squadra di Bruxelles, era l'Union Saint-Giloise che io non conoscevo. Perché era all'epoca in Serie C. e allora manifestai questa mia intenzione. I miei amici italiani che vivevano lì dicono «Questa è la nostra squadra, la squadra storica, la squadra del popolo». Beh, andiamo, andiamo. E io vedi questo calcio che mi ricordava è veramente un po' quando mi portava mio padre da bambino, un calcio un po' d'antan, di altri tempi, anche l'atmosfera in generale. E mi sono innamorato di questa squadra che poi nel frattempo è salita in Serie B e poi è salita in Serie A. Sono tre anni che siamo primi in classifica, ma in Belgio hanno una strana regola per cui a fine campionato le prime quattro e quest'anno saranno le prime sei addirittura si giocano una sorta di play-off. Porca miseria! C'è il rischio di non vincere il campionato. Ci sono delle immagini commoventi, veramente, devo dire, di questa tua passione per questa squadra e dei tifosi che hanno per te. ti si vede con la sciarpa, con i colori sociali di questo club, al collo e con le lacrime agli occhi. Con un grande abbraccio tutti che cantano con te. Ti hanno riconosciuto. Mi conoscono già. Certo. Cos'è lo significa essere amati dalla gente? È bello. Ti sei sentito sempre amato dalle persone che ti stanno vicino. Ma se io ho fatto quello che ho fatto nella vita è che forse per il bisogno di essere amato in qualche maniera. Mediamente spero di sì. Io mi definisco un simpatico cialtrone, nel senso che sono le mie come tutti, ma chiedo di essere di base una persona buona. Per cui mi fa piacere sentirmi amato. e indubbiamente mi fa piacere. Le tue pagine Facebook impressionanti. Quanta adesione di affetto nei tuoi confronti viene espressa dai tuoi colleghi? Per colleghi intendo Giovanotti, Vinicio Caposela, Gianni Morandi, Orietta Berti. Lorenzo mi ha voluto due anni fa. Mi ha voluto ospite due volte nel Giovan Beach. E quindi è stato bello. Perché la prima delle due a Marina di Ravenna ero arrivato già prima. C'era un backstage che era più una festa quasi. Poi c'era parecchia gente che conoscevo. E' stato divertente. Al momento di essere sul palco ero vestito così, tra l'altro, più o meno. E poi sul palco c'era Fedez che io non avevo mai visto. Ehi, ciao Fedez! Come se niente fosse davanti a 70.000 persone. Ma era una festa, è stato bello. E adesso vediamo. Vamos a la vigna, mi vorrebbe da dire. Dobbiamo chiuderla qui. Non sei il primo. Davvero? Vedi, pensavo di essere... Vamos a la naia, vamos a... Ah, vamos a la naia, vamos a... Io purtroppo devo andare alla conclusione di questo incontro. Mi ha fatto davvero molto piacere incontrarti. Alla fine non abbiamo detto quella cosa che dovevi dire. Ah, quella cosa là del... Cosa che devo dire? Del... Ex punk ora venduto. Ex punk ora venduto. Eh, non abbiamo il tempo per dirlo. Eh, va bene. Allora lo lasceremo per la prossima volta. Lo lasciamo lì. Ex punk ora venduto. Ma non è vero. Beh, io tutto sommato mi sento un vecchio punk. Molto nello spirito più che poi nella... Anche nel look attualmente. Ma nello spirito sono sempre stato un punk. Sì, sì. Grazie. Grazie di cuore. Grazie anche a voi per essere stati in nostra ma soprattutto in sua compagnia. Ci rivediamo la settimana prossima con un'altra storia da raccontare. Buonasera. Grazie a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Lo specchio Kundin Optic Il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera.